I giocatori delle squadre di Serie C non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato, in programma tra il 26 e il 27 settembre. Una scelta clamorosa che è stata annunciata dall'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, attraverso un comunicato ufficiale. Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un'intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l'abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di C, spiega il comunicato, l'AIC conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato, fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre, a dar vita a quello che è un vero e proprio sciopero e quindi la novità adottata per questa stagione delle liste chiuse a 22 elementi. La Lega Pro ha deciso di scegliere questa strada al fine di rendere le stagioni più sostenibili dal punto di vista economico per le società, ma così facendo per i calciatori potrebbe esserci meno spazio nei vari organici, con un taglio stimato in circa 200 tesserati. L'azione di protesta, spiega l'associazione guidata da Umberto Calcagno, vicepresidente vicario, nasce dall'inspiegabile passo indietro della Lega Pro rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva relativo alla reintroduzione di limitazioni sostanzialmente obbligatorie dell'utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti. La prima giornata di C dunque è a forte rischio slittamento.